Meglio che non uso ad altre persone, poi accompagnato presso il boxe che noi sapevamo essere nelle vicinanze, azionando il telecomando della serranda del boxe, automaticamente si è aperto il locale e abbiamo trovato tutto un ingente quantitativo. Nella circostanza abbiamo soltanto diminuto e sequestrato, soltanto il momento dei 55 gridi Ascish, il classico meccanismo, il termine tecnico è la retta, è quando un soggetto che ha particolari precedenti i giudizi di polizia o anche incensurati, per conto proprio e per conto terzi, normalmente utilizzano neogali a cui non possono le forze dell'ordine risalire dal punto di vista investigativo, o almeno ufficialmente. Ci sono delle sigle che contraddistingono i panetti? Che cosa voglio dire? Sono delle sigle, sono delle iniziali, probabilmente destinati, anzi sicuramente a soggetti diversi nel mercato, sulla piazza romana e sicuramente preparati da soggetti diversi, quindi al secondo magari della piazza a cui era destinato la sostanza ideofracente, corrispondeva e corrisponde a una sigla ben precisa. Arede fruttato sul mercato romano circa 150.200.000 euro. Grazie.